Che durante questa partita, che il Napoli aveva chiuso in vantaggio nel primo tempo 1-0, c'era stato un flusso di scommesse anomalo sulla vittoria nel secondo tempo del Napoli. Però guardate, questo è il gol di Amsic del 2-2, qui la telecamera stacca su De Laurentiis, ma noi vi facciamo vedere l'esultanza di Amsic, ma vi facciamo anche vedere un'altra immagine. Bene, rivediamo, gol di Amsic, Amsic guardate, va da una parte e lì sotto, il pallone lo vedete che si è infilato proprio lì, è proprio il gol di Amsic, lì sotto avete visto c'è l'immagine del figlio del boss della Camorra, eccolo lì, che esulta. Noi con questo non vogliamo provare niente, perché non è nostro compito provare niente, vi vogliamo soltanto avvisare che se l'assunto è, la Camorra aveva giocato la vittoria del Parma, beh se era lui il Camorrista che aveva giocato la vittoria del Parma, è quanto meno strano che l'amore per il Napoli fosse così superiore agli interessi. Grazie.